Una buona Pasqua a tutti i campanari di YouTube. Oggi è domenica di Pasqua, sono le 10 meno 10, mi trovo a Garlasco dove abbiamo la chiesa parocchiale di Santa Maria Assunta con un concerto di 8 campane. E adesso per la messa delle 10 e mezza suoneranno alle 10, penso suonerà il concerto solenne, non so quante campane, potrebbero suonare solo 6, potrebbero suonare tutte e 8. Lo scopriremo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.